ciao ciao grazie di essere qui con me oggi oggi voglio fare un video molto semplice ma spero molto utile in cui voglio dare 5 5 5 5 5 5 consigli per dormire meglio riuscire ad addormentarsi più facilmente e più tranquillamente se sentite casino all'esterno è che c'è tantissimo tantissimo vento e spero possa addirittura rilassarvi questi consigli sono stati elaborati da me ed è stato da me e anche da mio marito che fa un po' più fatica ad addormentarsi e a dormire meglio rispetto a me il primo consiglio che vi voglio dare è quello di dormire sul letto comodo fatto coordinato ma anche proprio comodo a me personalmente a noi come coppia piace dormire proprio sul morbido tipo nuvola proprio e come negli hotel trentini in cui c'è proprio anche la nuvola sopra sapete quel piumone morbido ecco quello più il letto è comodo e confortevole e ci avvolge più noi ci sentiamo protetti e pronti diciamo a dormire ad addormentarci e anche il nostro corpo è sentito proprio più rilassato e questo video è in collaborazione e gentilmente sponsorizzato da Koala Sleep che è un brand che mi ha colpito tantissimo devo essere sincera Koala Sleep è un'azienda italiana sostenibile di cui ho il topper, i guanciali e il piumino e vi assicuro che abbiamo sentito veramente la differenza, siamo entusiasti con la Sleep è un'azienda centrata sulla sostenibilità e infatti i loro prodotti sono in parte fatti di una fibra naturale chiamata Kapok e in parte fatti di piumino riciclato sono entusiasta perché io cercavo veramente soprattutto un piumino sostenibile al topper che si mette sopra il materasso da una morbidezza veramente nuvola, amo tantissimo e anche i cuscini veramente morbidissimi e i piumino che io amo all'uglie, cioè sia in versione estiva e primavera sia in versione autunna e inferna ne abbiamo voluto un'inferma e io adoro i piumini e come si potranno dare anche nella stanza noi abbiamo fatto lo stile in montagna e appunto con i piumino così ovviamente serve coprirlo e poi si può anche evitare il lenzuolo che non è mai stato una biancheria che mi ha particolarmente entusiasmato in questo modo si può fare il letto anche molto più velocemente quindi sei entusiasta perché è un'alternativa ai solidi cuscini, i piumoni e topper di qualità sostenibile e comodissima secondo consiglio che vi do per una serata più rilassante per dormire meglio, per andare a dormire meglio e personalmente è per una tisana calda a me avere una bella danza con tisana calda preferibilmente all'erba di montagna e sorseggiarla la sera aiuta tantissimo, tantissimo, tantissimo mi rilassa, mi distende e la bevo sia prima ad esempio delle live ma anche proprio quando non ho niente da fare e passo una serata davanti alla tv proprio quella non manca mai se vi puoi dire che magari è una tisana digestiva ecco però in generale un drink una bevanda confortante che può essere quello che volete per me è veramente la tisana oppure se volete ad esempio prendere un quadratino di cioccolato fondente e queste cose qui per me è tantissimo per proprio qualcosa da gustarmi la sera con calma e che mi rilassi la tisana calda dopo quando la sento scorrere è un qualcosa che mi veramente da calma e estremità la sera che vento fatemi sapere se proverete effettivamente a gustare una buona tisana la sera non necessariamente prima prima di andare a dormire ma la sera per distendere i muscoli e per prendersi anche quei 5 minuti per sé in cui bevi la tisana e rifletti è meraviglioso e ve lo consiglio tantissimo possibilmente anche una tazza di quelle belle di quelle roba che dite voglio per una tisana solo per usare questa tazza bellissima il terzo consiglio è invece un po' più diciamo risaputo ma non guasta mai ripeterlo un'altra volta ed è quello di mangiare leggero la sera non vi sto a dire cosa mangiare però sicuramente e soprattutto questo non vuol dire tagliare via i carboidrati altrimenti vi farà voglia di dolce la sera ma mangiare leggero vuol dire mangiare magari evitare il fritto evitare alimenti troppo pesanti tipo l'hamburgerazzo con le patatine ecco queste cose qui mangiare magari più verdure e meno grasso meno pesante questo vi dirà sicuramente a sentirvi più leggeri la sera meno appesantiti e anche più rilassati tecnicamente la colazione dovrebbe essere il pasto più abbondante sostanzioso della giornata per passare al pranzo e alla cena che dovrebbe essere quella più leggera so che a volte è difficile però se insomma avete un po' di problemi anche a dormire a prendere sanneggio te la provate ad alleggerle la cena e magari a aggiungere sostanza al pranzo e alla colazione il penultimo consiglio è quello di andare a letto puliti ok sembra una cosa scontata però aiuta tantissimo non intendo solo la doccia intendo proprio anche struccarsi sempre prima di andare a letto e anche bene sciogliersi i capelli e prepararsi proprio per andare a letto puliti e pronti a volte per la pigrizia ad esempio non mi non mi struccavo o mi struccavo solo con e con lo struccante notavo che facevo molta più fatica e addormentarmi perché magari sentivo il mascara secco sugli occhi e sapevo che avrei sporcato il cuscino con il trucco insomma anche se si è stanchi cercate di struccarvi sempre o comunque anche lavarvi il viso sempre 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 prima di andare a letto ovviamente lavarvi i denti il viso eccetera però trovo che serva aiuti tantissimo proprio ad addormentarsi in modo molto molto più tranquillo e sereno ripeto sempre una cavolata però provate ad accumulare queste cose tutte insieme vedrete che davvero migliorerà il momento del pre-dormire del pre-dormentamento il quinto e ultimo consiglio quello che trovo sia anche un po' più particolare quello che non ho sentito in realtà da molte parti ma che a me aiuta da matti da matti da matti è scrivere ciò che mi preoccupa o ciò che è nella mia testa su un foglio la sera proprio anche prima di dormire è normale che la sera mettendosi a letto e rilassando il corpo si rilassa e la mente comincia a lavorare e lavorare e vi vengono in mente tutte queste cose che dovete fare il giorno dopo e vi vengono in mente tutte quelle cose che dovete fare il giorno dopo o che non avete fatto in quel giorno la prima cosa che dovete fare la mattina quella cosa che avete paura di scordarvi quella cosa che dovete comprare può essere di tutto però a me capita la sera proprio che mi venga in mente tutto ciò che mi sono scordata in mezzo alla giornata tutto ciò che devo fare il giorno dopo nei giorni successivi e mi riempiono la testa mi riempiono il cervello e non riesco ad addormentarmi bene ci metto veramente molto più tempo e anche magari guardando un video smr o leggendo comunque restano lì e comunque mi agitano e una cosa che ho trovato veramente utile è prendere questi pensieri come diciamo prelevarli dalla propria testa e metterli sulla carta perché la mia ciò che mi blocca da dormire bene in questo caso è proprio il fatto che ho paura di scordarmi delle cose e scrivendole riesco a lasciarle andare so che sono lì sono andate adesso posso rilassarmi perché veramente tutte le cose che mi scordo durante la giornata ritornano la sera puntualissime quindi provate questa cosa davvero è veramente utile tenetevi un un quadernino e una penna di fianco a letto sul comodino e potete anche scrivere i pensieri appunto che avete in mente e lasciateli proprio andare cioè fateli passare dalla vostra mente al foglio quindi siete anche sicuri di non dimenticarli io vi ringrazio di aver guardato questo video ditemi sotto nei commenti quali consigli stavate già attuando quali volete attuare quale vi sembra il più interessante e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi augurarti augurare a te a te a te una buona 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 buonanotte 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 sogni d'oro sogni d'oro good night sweet dreams buonanotte 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 le canostre, le canostre, le canostre buonanotte, mi hai piña con la crema e il caffè? un bacione che le spera? un bacione il bacione un bacione un bacione Grazie. 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 Grazie.